Ciao a tutti amici di Evriai e benvenuti in questo nuovo video e siamo su South Park The Stick of Truth avete visto, l'avete richiesto in tantissimi, con tantissimo ardore tanto che sono arrivate anche alcune mail e di questo appunto vi ringrazio vuol dire che la serie vi è piaciuta in particolare avevo letto nella mail che mi hanno inoltrato vorrei ringraziare Raresh se si pronuncia così ringrazio Raresh e niente insomma, eravamo arrivati al punto ancora più o meno iniziale dove stavamo reclutando, vedete, stavamo reclutando ancora, ecco qua, gente nell'esercito di Cartman forse magari questi pezzi o queste secondarie, la principale le avete viste nel live di Andrea però dato che comunque non c'è un ordine specifico da seguire mi viene difficile ecco non farvi vedere magari le stesse secondarie che magari lui ha fatto prima e ho fatto dopo l'ordine è anche un po' ecco autonomo e forse è anche il bello di questo gioco comunque tornando a noi siamo andati appunto a cercare a cercare i nostri le nostre reclute, token, craig e tweak e ciò che abbiamo da fare adesso è risolvi l'ansioso dilemma di tweak e reclutarlo nel gruppo di Cartman quindi il dilemma in questione eccolo qua vai a casa di Kenny e chiedi alla mamma di Kenny della consegna per la miscela tweakers quindi andiamo a casa oh c'è un cursore del mouse eccolo qua andiamo a casa di Kenny allora casa di Kenny dov'è casa guardate il pedofilo là dietro che in realtà non è un pedofilo non mi ricordo come si chiama aspetta che ve lo faccio ridire Al Gore Al Gore non mi ricordavo il nome comunque la mappa allora andiamo a vedere casa di Kenny don't death casa di Kenny casa di Kenny questa eh no ok gazzetta qualcuno di voi sa dove possa essere la casa di Kenny qui dove siamo attualmente perché la casa di Kenny non è segnata come diciamo luogo per la missione mi sembra mi sembra strano luogo per la quest soprattutto vediamo se magari dalla quest possiamo selezionarla vedi sulla mappa ok ah è qua a casa di Kenny cioè è tipo era lì nell'angolino che non se la filava nessuno allora che giro dobbiamo fare passiamo quindi di qua ok va bene quindi cerchiamo il primo primo teletrasporto rapido ecco andiamo cerchiamo il teletrasporto rapido e ci portiamo nella posizione più più vicina possibile insomma eccolo qua suona ok e la posizione più vicina è questa che è quella se non sbaglio nel cortile di Cartman alla base segreta ragazzi ok perfetto andiamo a casa della principetta Kenny salve signora vediamo cosa ha da dire alla signora che gentil misericordioso chi non avrebbe problemi a crescere Cartman ok guarda che giro abbiamo dovuto fare forza partiamo cos'è questo coso è inquietante perché non viene ah era un cipcomon cipcomon come diavolo si chiama non lo so lasciamo perdere allora ok proseguiamo è tutta dritta se non ricordo ma questo è il tizio il padre di quello ebreo che lo prendono sempre in giro perché èbreo signor Brofloschi scusi entrerai volentieri a casa sua puoi diventare mio amico perché parli fufufufufi fa niente ma c'è c'è una nave la in fondo il pappagallo che è più grande non si sa dello sfondo qua c'è la ferrovia dei nemici ecco venite è un po' che non ci gioco mi ricorderò come si faceva si penso ok è una parata perfetta caspita quanto danno allora voglio farvi vedere una cosa fighissima ho preso le invoca le evocazioni stile Final Fantasy per capire e ho già visto quella di Gesù che infatti non ce l'ho più possiamo prenderne una al giorno ed era qualcosa di strepitoso ora non ho ancora visto quella del signor Maso signor Maso e quindi insomma ho un po' di paura ah però con un singolo nemico usiamola su questo qua che sembra OP ho paura ragazzi ho paura oddio oddio va bene non avete visto nulla non avete visto nulla vero questa cosa è pornografica pedofila non avete visto nulla non avete visto nulla proseguiamo ok casa di Kenny sarà tipo sto schifo ho una un diciamo punto di viaggio veloce si penso sia sto schifo Kenny ma dove cavolo abiti I'm a witch stupid scusi e quindi Kenny abita abita qua bella casa di Kenny una patata oddio ma stregoni ma siamo finiti in breaking bad ahia no no non andare a fuoco dammi il pacco eh sono nuovo sono nuovo nel giro sicuramente è un polizia sicuramente è un poliziatto di 8 anni siete troppi per i miei gusti provo a scordirmi che sei il più pericolo tossica tossico boh non so dai sarai tu il più pericoloso dg almeno è stordito ok abilità ok possiamo colpire quei due contemporaneamente vai con il martello tempestoso vai tempestoso quanto basta adesso mi lancia le bottiglie oh 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 caspita mi hai fatto male magari qualcuno è debole al fuoco questo no questo no siete dei tossici perché non siete deboli al fuoco forse questa riusciamo a ucciderla anche perché ha fatto parecchio danno vai ok al pelo cioè l'abbiamo uccisa con uno scarto la musica figa sotto oh 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 no mano santa su me stesso non posso usarla ci curiamo casomai al prossimo però possiamo usare più abilità colpiamo colpiamo questo qua dietro anzi approfittiamone per questo dai vai ho cannato no ok non ok non ho più punti vai ci sta la musica è diventata rock vai 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 uh no perché mi lanci le bottiglie è un piedofilo vai usa l'arco dello sfigato e tu usa usa il martello vai per i chiodi gg è stato cioè si è anche avata bene purtroppo gesù e maso nelle boss fight non possiamo usare recupera la la miscela con tanti pozione pieno siamo pochino di pozioni siringa usata attenzione si si assolutamente scienziati con tanti fagotto questa ce l'hai tu schifoso schifosa oh ce la puoi fare con tante cosce di pollo aia ok abbiamo capito che di lì non si passa eeeh cos'è devo andarla a cercare la miscela ah magari è nel frigo non chiedetemi perché ok non è nel frigo qua non c'è nulla vai perché dovrebbero averla sul tetto tipo ah ok ah è tutto guarda che giro malvagio per per andare qua canotta le patatine guariscono un 5 di salute ogni turno e quel un 5 e questa è la miscela no questo semplicemente semplicemente ci abbassava la perché te la sei messa la canotta aspetta non ti ho dato ah scusi non ti ho dato il permesso di mettere la canotta a meno che non sia davvero utile 5 di soldi in più beh perché no sì ma la miscela allora aspettate non è che magari devo scattare qualcosa no non è che magari l'abbiamo già presa guardiamo un attimo per questo è il laboratorio ah ok quindi dobbiamo perlustrare va bene perlustriamo allora qua non c'è qua abbiamo già guardato da questa parte non c'è qui non si passa infatti ritorniamo su ma non c'è qua niente ah era quel quel sacchetto là che prima per qualche sano motivo giuro non me l'ha fatto prendere avete visto che ci ho provato ma ok torniamo da dal tipo del caffè lì da tweak ah è ripartita l'avevo mai no stavolta no corri 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 bravo qua c'è il tizio disagiato ah prima ti ho parlato e non sei diventato mio amico ora ti ho pestato e distrutto il pupazzo di neve e siamo diventati amici va bene non mi dice niente va bene mi vengono in mente tutte le barzellette più brutte sui oi ah ok questa è tipo modalità skyrim furtiva ok tappa 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 eh non ho preso il punto quello che c'era qua più vicino perché boh volevo giusto vedere se era cambiato qualcosa intorno allora dobbiamo tornare al dove era il caffè questo è il teatro eccolo qua il caffè quindi il punto più vicino è questo eh al self storage ok andiamo eccoci qua andiamo a consegnare questa miscela che mi lascia un po' stranizio non so esattamente cosa mettete nel caffè in questo posto ma effetti già entro e vedo non voglio sapere probabilmente il signor maso è venuto a trovarti di notte quindi poi già che vedo della roba verde in questa caffetteria mi fa già capire il perché di quella miscela comunque il tipo è qua eccolo qua vi direi una pettinata ma parlo io quindi vabbè contento bevete anche voi il caffè drogato caffè marihuana è buono qui è buono va bene ok allora ok obiettivo completato torna da karmann finalmente se ci chiamerà un po' cojonazzi ta 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 qua c'è un pokemon lì ma non è un pokemon giustamente lo chiamo così ma non posso prenderlo mi pare casa di kartman si è giù quindi torniamo alla ok casa di kartman eccolo qua andiamo c'è il signor vlado tutti insieme rapporto feldspot mi spiace esatto ovviamente io l'urlo del drago urlo drago mi ricorda un gioco ah super mario super mario ok grazie perché perché effettivamente mancavano giusto le scoreggi in questo gioco quindi perché dovrai scoreggiare sulle poteche palle di qualcuno meno male che il mio personaggio è tipo un botolo che non parla col roda oddio che roba compi... aspetta un attimo fatemi vedere così le frequency eccola qua un attimo un soffio del drago un poderoso ruggito ok probabilmente ho solo camminato il tempo va bene e ci riprogramo ok ce l'abbiamo fatta perché dragonborn dragonborn ha detto dragonborn perché dovrei teoricamente in un gioco di ruolo scoreggiare sulla principessa perché ma non riesco a capire esattamente allora però devo aspettare il suo segnale ok non avevo afferrato che devo aspettare il segnale ok 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 buon job sir douchebag questo è bello grazie princess kenny questo è tutto per ora spero che siamo a casa ok 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 seriamente ricordi non nemmeno nemmeno carfony si va bene e c'è un warwick Kenny will assist you on your quest douchebag now go get craig while I rest and relax upon my throne yeeeh ho kenny come amico recluta craig hai nuovi amici o amici ovunque yeeeh ok dirigiti alla scuola e trova craig andiamo a scuola ah oh c'è il c'è qua il è vero il il viaggio veloce cos'è aspetta ho letto qualcosa ma non ho letto qualcosa ma non l'ho visto per passare da un compagno attivo all'altro c'è un nuovo amico ok quindi rb kartman ma direi che mi va bene così allora scuola scuola se non sbaglio è di qua no questo è il il mall la il centro commerciale e la scuola dove sarebbe esattamente questa no questa è la stazione di eccola qua ok il più vicino è questo perfetto ok andiamo tappa 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 ardenza sulla neve peggior sparticulo attenzione non ci posso arrivare ma posso rompere questo e arrivarci andiamo della tintura verde azzurro e 35 centesimi signori 35 centesimi scuola questa non è quella del segreto nessuno sta interpellato sta zitto 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 ok che belli i miei capelli i suoi intendono i miei pito pito in inglese oggi ok e ci ha già sgamato va bene non ti arrabbiare ok vai al bar della scuola detto fatto possiamo entrare dalla porta va bene anti sgam risalve Warwick che è sto coso qua ma levati dalle scatole ma vai via l'avete visto com'è che si fa quando vedi una scintilla verde diventando troppo allora vai soffio del drago starnutire vai carica con quella cannottiera sembri un mafioso vabbè ma sei una pippa eh no batter tu non salire mai di officer down officer down tutti i monitori all'interno all'interno oh god damn porco zio lo si dice eeeh 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 intanto ci mangio prendiamo tutto qua eeeh non eeeh il coso della vibrazione ok speravo di sentire una vibrazione diversa ma prendi tutto parrucche non ne voglio sapere ombrellone attenzione ma si dice se mi chiede l'esplosione verrà eliminato mi piace no è chiuso siamo dei teppisti le altre no le altre ma forno ah eerk eeeh eeeeee eeek sai comeemim mi dicono che sei intelligente come professora ah chiesa urquito sono lol va bene intanto tu ci do con un colpo dai oddio caspita è schifato è schifato dal regolamento magia urlo del drago gg intanto ti lascio fuori con un colpo tatatata ah c'è l'armatura oddio ma è fuoco per il di carota e adesso cambia amico per Kenny si pensa che è il suo charme contro i nemici vai santissima polenta oh l'arco come esci i rubacuori come hai osato curarti ora prendi questo e ora Kenny ti finirà cos'è sta roba charm ok vabbè abilità bacio che esco con bacio di miei come come il bersaglio resta schifato amici pelosi incanta le creature della natura con la sua bellezza e le scaglia contro i tuoi nemici vai scuoti ok così vai amici pelosi pelosate pelosate è uno tsunami di razzi bravo Kenny sei stato bravissimo qui cosa c'è niente perché è chiuso se cestino non lo approvo dell'acqua qua computer lab si può entrare no ok quindi di qua è tutto non l'avevo visto qua eh quanta roba andiamo avanti su su che sennò perdiamo troppo tempo che è il nostro timer andiamo avanti ancora un paio di minuti chiuso anche qua probabilmente troveremo allora l'ufficio del del tipo qua è chiuso ok qua è tutto però qua c'era qualcosa pozione 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 mana flaccone pennarello wow allora ricapitoliamo qua è chiuso qua è dove dobbiamo andare giustamente qua è chiuso e ci serve una chiave d'argento con tanti qua ci serve una chiave d'ottone ti servirà tieni premuto lb scegli lo strumento comando amico pure tocca riving è selezionata lb è questo comando amico ok ci ricona dell'amico ok poi ah ok vai chiedetemi il perché non voglio non voglio farmi domande chiusa aperta aperta finalmente qualcosa di aperto in sto posto giù pezzo di formaggio vecchia spugna ok queste posso romperle ok aspetta cambiare ok no è una finzione è una burla con tanti toppa caschetto niente chiavi e niente chiavi non è un buon segno ah questa ha la chiave ok prendiamo la chiave e stoppiamo il video give me the key c'è un asce ma no ho sbagliato non riesco mai a fare il controattacco ma pazienza abilità si vuole qualcosa di questa è questa è l'armatura però questo no dai che oddio no dai con 10 insomma che per una battaglia così però sarebbe più utile avere l'altro amico no contro tutti dai vai ratti 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 questi ratti sono sono un portento eh muori oh no non puoi chiamare i rinforzi è illegale non te lo non te lo permetto vai è troppo fissa mossa le 10 HP vai oh mio dio il cuoricino mi mancava a uno bastava era già morto tifoso dammi la chiave una specie così ingaggiato a caso grazie però mi da tutte le informazioni si chiave d'ottone prendiamo tutto ci interessa prendiamo tutto palla avvelenata arma ok ragazzi direi che per questo video è abbastanza abbiamo fatto un bel pezzetto ora registro la seconda parte ragazzi quindi il giorno successivo a questo video potete guardare anche la seconda parte e speriamo di completare questa quest come sempre questo gioco fa morire da ridere davvero mi catturo ogni volta e niente qui dal vostro felice è tutto per la nostra rubrica happy gamer ci vediamo al prossimo video bye bye aì 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 Grazie.